Oh mio Dio è blu Oh mio Dio Dai bravo Ma bravo sono blu C'è bravo E' normale Welcome to my moon guys Mi sono per tutti i vari Intro di cacca Io sono Simano e questo è il mio canale Cosa importantissima Anzi due cose importantissime Una Se non avete ancora ascoltato la canzone Andatela ad ascoltare e sta sul canale Mi raccomando Mettete like e l'ascoltate perché spacca Seconda cosa Ci vediamo domenica Al derby di youtuber A via tor di quinto 57b Ci vediamo lì Portate tantissimi cartelloni Per me Per Simone Per tutti gli altri Come vi pare Basta portate i cartelloni E fate il tifo per la S Roma Allora Simone Cargioli Innanzitutto il video io lo ho questa volta Visto che da un po' di tempo Che non facciamo le cose semplicemente Io vorrei lanciare l'hashtag L'hashtag del canale Hashtag Simone Cargioli E' brutto Che pensavi scusa Hashtag simosi Hashtag simosi per questo video Che cosa andremo a fare Hashtag simosi Che cosa andremo a fare Andremo a fare Un prank A chi 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 se non quella che ci va a fare 107 mila mesi in 4 giorni Chi 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 Iain 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 Bovida Stavo benericolato Benericolato Il mobito Stavo abboviato Il petro Iain 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 Quello è un bel Prank a fare un prank a Ilaria dove metteremo la tempera blu dove manco lei nello shampoo nel bagno schiuma ah no dai nel bagno schiuma così lei farò e dietro un puffo hashtag ya yao come puffetta andiamo ria ok rica andremo a svudu andiamo a svuotare ma già svuotato spegni l'acqua perché non si sentiva niente all'altra volta allora è fatto finito il prank che lo facciamo a fa tanto esimo tutto blu oh mio dio è blu non ho mai visto ancora il blu basta direi ok stiamo a bondare cioè l'effetto sarebbe questo ora lo brigamo in diretta no ne ho provato giù però dove? perché sennò qua sporchiamo tutti i lavandini e poi a yao si potrebbe accorgere dovete capire nella vita c'è una cosa che è fondamentale la secca sei un deficiente l'hai rotto no no Simone rovini sempre no invece no invece no cioè levando questo pezzo sei a mezzo idioti voi costruttori di 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 bro 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 talco si 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 bro bro talco ok rega la prova del 8 era del 9 aspettate un attimo rega c'è una cosa da mettere qui sto aspettando un messaggio della apple perché signorina è riuscito a bloccare il mio iphone rega no è il mio è il mio ormai no è il mio ma rega finalmente instagram stories rega perché non so se voi lo sapete ma io avevo cioè io avevo questo bellissimo iphone 7 Prete non l'ho mai usato perché quando l'ho comprato mi si è rotto E non mi andava mai da aggiornare la giusta E quindi è rimasto lì morto Quindi seguitemi tutti su Instagram per vedere delle storie mie giornaliere che non farò Guardate, è luce Aspetta, chiude luce Ma sai che luce, spirito di salas Allora ragazzi, guardate, io vi consiglio a tutti quanti questo bordo d'alco Il bordo d'alco fiori d'arancio energizzante Ma con chi parli, con lo specchio? No, sperando te rispetto a quei teleastronomani Tanto, di più ce ne voglio No Voglio sì No, no, non voglio No, no, raga C'è tu ma c'è C'è Oh Oh mio Dio Ma raga, 20.000 like andiamo in giro così Tutti incompletamente blu Ma se leva? Questa è la cosa che mi preoccupava Se leva sì o no? Sì, se leva Perdi sangue blu perché sei principe Ehi, assalto a mo'era Sangue blu come il principino Henry Quanto sono british? Quanto sono dell'altro? Quindi raga, ho fatto salta per aria, cretino Sarete pensando Dove? Dove? Ia iau Ia iau È a Mi sono iscritta A danza L'ho fatto per la panza La trip era un po' troppa A volte è un po' stroppia Sì Il cargiorno ci aveva la panza Penso proprio Sì Raga, andate tutti a seguire Se vorrei che c'è su Facebook Su Facebook Che disgustoso Ok, raga A breve dovrebbe tornare a mia sorella Quindi non l'aspettiamo Ah, dovrebbe andare ancora a posizionare questo Ci andiamo al fly Al volo Ok Game master Game master Questo lo andremo a mettere qua L'altro lei Cioè Lo vede Lo prende dall'acqua Sì Quello devo usare E aspettiamo Ok raga, ok raga È appena arrivata mia sorella Non sta andando in cucina Non so Sto ancora Ok Vabbè 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 Arigà Sta sentita Arigà È entrata Ma fa il panico Vero La voglio vedere completamente Ti prego Ti prego Ho paura Ho paura Ho paura per la mia vita Ila Ma te stanno a fare la doccia Da Muoviti dopo Ma la devo fare pure io Ah Regalando Non so Da quanto tempo Che stiamo aspettando Ancora Non abbiamo tentato niente Non so Ai c'è Amo Lui Ma 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 Qu'è 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 ma che hai fatto ya ya che shop hai usato che bagnoschiuma hai usato sei un avatar in casa che schifo perché sei tutta blu ya ya ma ti sei trasformata dai però ma però sono blu dai ma non è normale questa cosa ya ya perché mi fai vedere che shop hai usato ma pure i piedi ma tu sei tutta blu dai però non è possibile questa cosa è questo è borodalco normale ah ya ya ma che hai fatto eh si dai però ma che è questa roba ora pulisci tutto al minimo ma questi sono matti ma questi dai sono blu però ya ya oh perché sei un avatar cioè dai ma aprite l'acqua vabbè quindi prank è riuscito io direi prank è riuscito prank è riuscito era un prank cioè l'abbiamo messo noi scappa scappa aaaaaaah no no battere da me battere da me brutto avatar aia no mi sporchi mi sporchi avatar io gli avatar non li voglio gli avatar non li vogliamo in questa casa precca di ossia no mi stai a sporchi no mi sta sporchi a tutto battere battere per tu avatar mangiala mangiala che è Malum manco Malutti vuoi che è schifo raggiungiamo oh parola vendetta parola vendetta parola vendetta preparati al peggio adesso raggiungiamo sei l'alecchio per la vendetta dell'avatar Ferma, ferma Che disgustosa Cioè si sta pure asciugando Corri, corri Vabbè figliari Perché direi che è riuscito Commentate qui sotto con l'hashtag Avatar E ragazzi vediamo Nella vendetta, punto di domanda Grazie